ciao a tutti nesini siamo qui in un nuovo video apertura uova di pasqua e stavolta ci riproviamo con un nuovo che ho già aperto sul canale quest'anno e quindi lo trovate magari ve lo metto anche in descrizione se me lo ricordo se non lo trovate sul canale ci riproviamo perché l'altra volta l'apertura non è andata bene tra virgolette perché ho trovato un personaggio della serie vecchia allora ho visto ho visto anche altre aperture è successo anche ad altri e in più ho chiamato proprio direttamente la la balocco per sapere come mai si trovano altri personaggi rispetto a questi che vediamo raffigurati qui che sono della serie nuova e mi hanno risposto che loro abitualmente rimescolano tutte le serie quindi troviamo una qualsiasi serie che sia già uscita in passato e quindi insomma lo fanno proprio così normalmente e perciò non è detto che voi troviate questi personaggi qua quindi se lo comprate sappiatelo e ho visto che fanno la stessa cosa anche ad esempio quelli della bauli grandi firme che rimettono sorprese vecchie anche dei per esempio delle pochette insomma che sono uscite quest'anno sono uscite anche l'anno scorso o gli anni precedenti quindi voi sappiatelo che magari un anno prima comprate un uovo poi l'anno dopo ritrovate la stessa sorpresa che non è proprio una bella cosa sinceramente comunque vabbè vanno un po a risparmio perciò questo è comunque niente io ho riprovato costava stavolta meno 6 euro e 90 quindi l'ho preso è questo della ty mini bus e sono qua dice appunto 10 personaggi da collezionare ma in realtà sono molti più di 10 e appunto niente della balocco il cioccolato era buono e quindi ho voluto riprovare questa nuova serie mi piace mi piace molto mi piacciono molto questo questo qua poi mi piace il bradipo mi piace il draghetto l'unicorno l'orso polare insomma ce ne sono diversi che mi piacciono e quindi spero stavolta di trovare uno della nuova serie spero comunque se volete vedere chi ho trovato la scorsa volta che era comunque carino ma non era nuovo lo trovate sul canale allora questo uovo qua è da non mi ricordo 240 grammi che per 6 euro e 90 ci sta perché comunque è parecchio cioccolato e ho pagato di più per esempio altre uova che che erano 140 grammi per esempio e niente andiamo quindi a spacchettare e vediamo stavolta chi trovo questo qua ha il cordino che adoro finalmente e vediamo un po che ci capita ah si è già rotto vabbè eccolo qua oh uno nuovo finalmente e questo non è coperto quindi già vediamo di chi si tratta dopo lo andiamo a vedere meglio io però prima assaggio un pezzetto di cioccolato anzi lo spezzo da qui come al solito di rito molto buono anche quello e vi consiglio se non l'avete mai mangiati mangiate insieme il cioccolato al latte o quello che volete insomma insieme a delle uova insieme al bloom cake è buonissima questa combinazione ve la straconsiglio io li mangio spesso insomma adesso durante il periodo di pasqua e li stra adoro volevo prendere anche l'uovo dei paci perugina al latte ma era finito c'erano solo fondente extra fondente o bianco io non li mangio molto quei tipi di cioccolato ne mangerei a piccole quantità però mi sembrava uno spreco prenderlo quindi ho preso ho ripreso questo insomma ma andiamo a vedere il nostro personaggino nuovo finalmente che è il draghetto e è veramente carino non so quale sia la rarità però è molto carino eccolo qua e ha anche tutte le ali glitterate aspettate che ci guardo eccolo qua e quindi questo siccome l'ho preso dallo stesso dallo stesso insomma supermercato dove ho preso l'altro c'avevo paura che magari un lotto intero fosse di quelli vecchi invece no mescolano un po a caso anche nello stesso lotto quelli nuovi e quelli vecchi comunque eccolo qua perde un po di glitter le alette però a parte quello è molto carino è tutto verde perlato con questa parte delle scaglie tipo viola che sembra un po un peluscino no perché questi effettivamente sono peluche ma fatti in figure quindi è come se fosse fatto di stoffa e a queste alette glitterate dorate che appunto perdono un pochino di glitter qua c'è la sua targhetta della ty e gli occhi sono sempre dorati glitterati molto carino mi piace molto poi particolare il draghetto non era mai uscito nelle altre serie quindi mi piace molto un altro che mi piaceva appunto era nori che ero curiosa di vedere come fosse insomma trasparente poi c'erano appunto glacier sunset che è l'unicorno il bradipo che io adoro il bradipi quindi dangler poi c'era il panda che quest'anno è grigio fasi e poi c'è appunto lui che è cinder poi c'è wilma poi c'è il gattino con gli occhi aterocromatici ether che è un po arcobaleno pure lui carino stirling che è tutto dorato e poi c'è inky che è celeste e fasi pure quello molto carino vabbè carina come serie insomma sono contenta finalmente di aver trovato uno nuovo fatemi sapere nei commenti che avete trovato voi e quale vorreste trovare o sperate di trovare se aprite le uova a pasca o le aprite prima insomma fatemelo sapere e niente finalmente un successo con queste uova della ty e questo è tutto fatemi sapere se il video vi è piaciuto se vi è piaciuto lasciatemi un pollice in su iscrivetevi al canale e restate sintonizzati per nuovi video e nuove aperture fatemi sapere nei commenti che altro vorreste vedere aperto una volta finito il periodo pasquale a spoiler ho trovato le uova o meglio mia madre ha trovato le uova santoro ne abbiamo prese due quindi appena tornerò a casa mie cioè a casa insomma dei miei le le aprirò e vi farò il il video uno due non so ora se ne faccio uno ne faccio due quindi state sintonizzati per le uova santoro sul mio canale ci vediamo in un prossimo video un bacione e a presto ciao ciao